Ciao a tutti voi da Rosi, ospite della nostra trasmissione Reduzi Motor. È un grande piacere ospitarli perché è la prima volta che partecipano alla nostra trasmissione e vi consiglio di seguire con particolare attenzione perché troverete veramente delle occasioni molto interessanti e dei prodotti molto interessanti. Ne parleremo con Mario, che saluto. Buonasera a tutti. E con Stefano, al quale lascio subito la parola. Ciao Stefano. Buonasera Rosi, buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Noi siamo a Treviglio, provincia di Bergamo, e siamo sulla strada, sulla via Bergamo, sulla strada che da Treviglio porta a Bergamo. La nostra azienda è presente sul mercato del 1972 e abbiamo un sacco di servizi per la mobilità, ma ve li introdurremo strada facendo. Ora lascerei, senza perdere troppo tempo, la parola a Mario per farvi vedere il nostro brand di punta di FSK. A te Mario. Allora, partiamo con questa vettura, che è una vettura completamente nuova per l'Italia. Si chiama DF SK500, è una vettura lunga 4,30. Partiamo subito dalla cilindrata. Cilindrata 1.5 con 115 cavalli. La vettura è dotata da tutti i sistemi. Per quanto riguarda il cambio, possiamo muoverlo sia col cambio manuale che col cambio automatico. Gli accessori sono interno pelle, telecamera posteriore, navigatore, bluetooth, computer di bordo, comandi radio al volante e possiamo anche dotarla di cerchi in lega da 18 pollici. Lo stesso modello possiamo muoverlo anche col cambio automatico a 6 rapporti CVT. Per quanto riguarda l'alimentazione di questa vettura, è un'alimentazione benzina e con la possibilità di averla anche con l'alimentazione a GPL, con l'impianto totalmente italiano della BRC. Per quanto riguarda il prezzo, il prezzo è molto molto interessante. Partiamo per questa vettura qui dotata di tutti i comfort da 18.850 euro. Mario, ricordiamo che questa vettura è pagabile con delle piccole rate fino a 120 mesi oppure senza anticipo con una maxirata finale, quindi per tutte le tasche. Esatto. Ora, presentiamo anche questa ottima vettura, un prodotto fantastico, la iX5. È dotata di tutti i comfort di marcia, anche questa motorizzata 1.5 con una sola differenza, il che il motore diventa un 136 cavalli con il turbocompressore. È dotata chiaramente questa vettura ad un interno in pelle, con tutte le regolazioni elettriche dei sedili. Abbiamo tutto il computer di bordo, con anche qui il volante multifunzioni e con uno schermo da 9 pollici touchscreen. Cambio qui, obbligatoriamente, cambio automatico e qui 6 rapporti CVT. E abbiamo anche, in questo caso, il portellone completamente elettrico. Anche qui l'alimentazione, partiamo da l'alimentazione a benzina, oppure possiamo anche qui intervenire con l'alimentazione a GPL, con l'impianto sempre italiano BRC. Per quanto riguarda il prezzo, qua abbiamo proprio un prezzo molto, molto interessante. Partiamo da 28.850 euro, chiavi in mano, i VAT. Un altro prodotto molto interessante di DFS-K è la 580 con il cambio automatico. Anche questa vettura è dotata di un motore 1.5 con 136 cavalli turbocompresso. La cosa molto interessante di questa vettura è che è una vettura a sette posti, chiaramente con tutti gli accessori di serie, dal cerchio lega, al touchscreen, all'interno pelle, sensori parcheggio, telecamera posteriore. E a un prezzo molto interessante, si parte da 26.450 euro. Grazie Mario. Per esempio, ricordiamo che tutti gli accessori da Mario Elencati sono compresi nei prezzi citati. Per completare la descrizione del marchio di DFS-K, che sul mercato italiano è poco conosciuto, ma ricordiamo che a livello globale è un grosso marchio, con tante partecipazioni in marchi blasonati. Per terminare inoltre la descrizione invece dei servizi che la Reduzzi offre, ricordiamo che abbiamo un completo servizio di assistenza, ricambi, officina, garanzia, con auto sostitutive per tagliandi. Perfetto, mi sembra che sia completo il discorso su queste vetture. Rimane solo una piccola cosa da fare, e cioè venire qui, l'indirizzo ce l'avete, il telefono lo vedete in sovraimpressione, venire qui per avere l'opportunità di vederle dal vivo, di sedervi su queste vetture, perché sono assolutamente certa che vi sorprenderanno. Per contenuti, i prezzi li avete già visti, sono straordinari, ma anche i contenuti di queste vetture sono davvero straordinari, tutti da provare. Perciò venite e parlate naturalmente con Mario, con Stefano, con anche gli altri collaboratori che conosceremo a breve. Ma Reduzzi non è solo DFS-K, vero Stefano? Esatto, Rosy. La nostra azienda è specializzata anche in altri marchi, quale Honda, Kia, e per completare tutto il servizio di mobilità abbiamo anche delle e-bike, delle biciclette elettriche. Partiamo con un noleggio di 24 mesi per un euro al giorno, dal city bike per la signora fino alla mountain bike per il fuoristrada. Perfetto. E adesso, per entrare un pochino più nel dettaglio, nella gamma Kia, sulla quale abbiamo delle vetture aziendali, chiamo ad escrivervi il prodotto mio fratello, cotitolare dell'azienda, Gian Battista. Grazie Stefano, buonasera a tutti. Prodotto Kia, partiamo da Sportage, un prodotto top di mercato, con 7 anni di garanzia, come tutte le Kia, disponibili motorizzazioni GPL, turbo benzina, mild hybrid, full hybrid, diesel, mild hybrid e plug-in hybrid. Quindi copriamo tutte le esigenze di mobilità. Oltre alla Sportage abbiamo disponibili anche del prodotto X-Seed, abbiamo disponibili delle prontaconsegne, delle vetture aziendali, abbiamo disponibili delle Kia Stonic, o altrimenti, passando a un altro brand che rappresentiamo, Honda, abbiamo delle HR-V. Prodotto full hybrid, Honda si concentra principalmente sul full hybrid, prodotti top di gamma, anche qui con 8 anni di garanzia Honda. Anche su Honda e su Kia abbiamo la possibilità dei finanziamenti fino a 120 mesi, quindi partendo anche senza anticipo, partendo con una rata minima, altrimenti arrivando delle formule con 3-4 anni di finanziamento e maxirata finale. Passiamo adesso alla presentazione del marchio Opel, un brand che abbiamo il piacere di rappresentare sulla piazza di Treviglio e sulla bassa bergamasca. Opel si compone di una gamma vastissima che va dalla Opel Corsa, quindi con una motorizzazione 1.2 benzina, ad arrivare alla Crossland, alla Grandland, con motorizzazioni che andiamo sul plug-in. Per i dettagli adesso lascio la parola a Mario, che vi illustrerà bene tutta la panoramica delle vetture, in quanto abbiamo anche moltissimi automobili, chilometro zero o aziendali. In questo caso vi presento Opel Corsa, una vettura con 28.000 chilometri e a un prezzo molto interessante di 18.500 euro, nella versione Elegance 5 porte, motorizzata a 75 cavalli, per cui può andare bene anche per il neopatentato. Vorrei passare anche a Crossland, anche questa motorizzazione 1.2, è una vettura completamente a chilometri zero, immatricolata nell'anno 2022, a un prezzo di 26.400 euro, dotata anche di cambio automatico. Per quanto riguarda anche le versioni, si parte dalla corsa base, tra virgolette, ma con parecchi accessori, per poi iniziare con l'EDITION, andiamo poi per quanto riguarda l'Elegance e per finire con il TODI gamma, con la GS Line. Questo anche per quanto riguarda Crossland. Naturalmente la conoscenza di tutta questa vettura qui, si tratta di Opel Mokka 1.2 benzina. Il costo è un costo molto interessante, perché una vettura che costa più di 30.000 euro a listino nuovo, noi le proponiamo a chilometri zero, immatricolate nel 2022, a 27.900 euro. Grazie Mario. Durante queste riprese avrete visto il brand Hertz, perché sempre per offrire il miglior servizio ai nostri clienti, all'interno della nostra concessionaria, ospitiamo anche un'agenzia Hertz, quindi con noleggio di automobili o furgoni, da un giorno fino a tempi più lunghi. Stefano, lo so che abbiamo già parlato di queste vetture, abbiamo iniziato proprio parlando di FSK, però siccome è un prodotto nuovo per il mercato italiano, vorrei ritornarci ancora e vorrei ritornare soprattutto su questa, che a me piace da morire. Rosi, perfettamente hai ragione, questo è un prodotto qualità-prezzo eccezionale, una linea sportiva, ormai una linea europea, e per prodotto e contenuti a un livello eccellente, dove le concorrenti costerebbero molto di più. Sì, direi assolutamente molto di più. Fate un po' i confronti, avete sentito prima Mario elencarvi gli accessori, vi abbiamo dato modo di vedere le immagini, naturalmente vi invitiamo, come dicevo prima, a venire qui a conoscerle personalmente, ma davvero vi renderete conto, anche solo guardandola, che ha una linea assolutamente europea, è una linea che vi richiamerà alla memoria forse qualche cosa, un prodotto molto bello, ma soprattutto ha un rapporto qualità-prezzo che ha dell'incredibile. Naturalmente tutto questo lo potrete scoprire venendo direttamente qui, perché Stefano, Mario, Giambattista saranno a vostra completa disposizione, vi diranno tutti gli accessori, vi elencheranno, vi faranno sedere sulla vettura, provare la vettura, in modo che possiate capire veramente quello che offre. E ricordiamo una cosa importante, tu hai detto all'inizio che siete qui dal 1972, qui, stesse persone, stesso luogo, perciò insomma è un sinonimo di garanzia, credo. Sì, sì. Siamo partiti, esatto, nel 1972 sempre nello stesso luogo e sempre nelle stesse persone, sempre la stessa famiglia, quindi voglio dire, pensiamo di aver fatto un buon lavoro fino ad oggi e vogliamo sempre incrementare ulteriormente. Certo, intanto Stefano, vedo che sono rientrati, però erano impegnati con dei clienti, Mario e Giambattista, li inviterei naturalmente a entrare qui. Vogliamo ricordare anche che, insomma, voi, io ho visto intorno, avete tantissime altre cose, avreste avuto modo di presentare tantissime altre cose, ma per questo li invitiamo dove? Li invitiamo a Treviglio, in via Bergamo, dove abbiamo anche una vastissima gamma di usato per tutte le tasche e vi aspettiamo in concessionaria da noi. Dimenticavo, scusate, mi assumo io la responsabilità di tutto, per chi viene in concessionaria e dice di aver visto questa promozione, regalo io personalmente il terzo anno di garanzia su DFSK. Bene, allora ricordatevi di dire, di aver visto la trasmissione alla Rosi, di aver visto questo programma e poi ricordate anche di andare a visitare il sito, lo vedete, l'avete visto per tutta la trasmissione, nel sito sempre aggiornato, troverete naturalmente tutte le proposte, tutte le informazioni, tutto ciò che desiderate. Un grazie a Gian Battista. Grazie, grazie a voi. A Mario. A te, Stefano. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Grazie. Grazie.